Si conclude con un nulla di fatto la grande mobilitazione dei comuni siciliani a Palermo per protestare contro i tagli e i trasferimenti imposti dal governo regionale. Gli oltre 300 sindaci presenti oggi di fronte alla sede dell'Assemblea regionale hanno trovato la porta chiusa, non hanno potuto interloquire con il presidente Rosario Crocetta che, stando a quanto riferito agli stessi sindaci per ragioni di sicurezza, non può raggiungere Palermo per i prossimi giorni. Incredibile ma vero, nella Sicilia di Crocetta dunque succede anche questo. Succede che 300 sindaci, 300 rappresentanti della popolazione si mobilitino da ogni parte dell'isola per difendere la sopravvivenza delle proprie comunità, ma trovino la porta chiusa in faccia, non riuscendo ad avere un colloquio con chi dovrebbe essere il loro interlocutore principale, proprio il governatore. Lui ufficialmente non può venire a Palermo. A sconsigliarglielo per almeno un paio di giorni, dicono ai sindaci, è l'osservatorio sulla sicurezza nazionale, chissà perché, chissà per cosa. Assente anche il presidente dell'Arsa, Ardizzone. I sindaci evidentemente hanno proprio sbagliato giorno, eppure la manifestazione era da tempo organizzata da Lanci con i previsti colloqui istituzionali. Una grande beffa, 250-300 sindaci che si mobiliano per vedere e per rappresentare i problemi seri dei cittadini siciliani. Intanto all'inizio non volevano neanche farci entrare nel palazzo, come se fossero gli ultimi dei manifestanti. Arriviamo, nessuno che ci riceve. Alla fine si trova questa giustificazione più o meno veritiera che la sicurezza nazionale impedisce al presidente di regarsi a Palermo. Ma non c'è un assessore che parla, l'assessore Bianchi non ha parlato, né il presidente dell'Assemblea. Veramente veniamo trattati come gli ultimi, quale rappresentante dei cittadini, come gli ultimi dei siciliani. Finiamola di prendere in giro i siciliani. Io credo che sia giunto il momento che i siciliani prendano coscienza perché hanno deciso con il loro voto le sorti della Sicilia e chi governa. Quindi chi ha responsabilità di governo, chi le ha assunte di fronte ai siciliani, se li prenda e se li assuma. Io non ho votato questo presidente, io faccio parte di altro schieramento e ogni giorno devo rispondere al territorio e a chi mi ha votato. E lo faccio con dignità, con fierezza e con orgoglio, senza infingimenti e sicuramente senza opportunismi. Ai sindaci non resta dunque che tornare a casa. Tutto è rimandato a martedì, quando chissà, magari cessata l'emergenza sicurezza, il sovrano tornerà a corte, disponibile a ricevere a Palazzo d'Orlean i suoi vassalli.